Ciao a tutti, quasi mi vergogno di parlare qua perché mi sento fortunato rispetto ai ragazzi che hanno parlato fino adesso. Sono cresciuto qua, quindi sono qua da circa 18 anni e mi sento a tutti gli effetti italiano. Però mi chiedo una cosa, sin da quando sono piccolo mi hanno insegnato che l'Italia è il paese più bello del mondo, che la cultura italiana è incredibile eccetera eccetera. Ma per chi è bella l'Italia? Per i turisti, per gli americani, per i francesi che vengono qua? Perché ho visto che per i ragazzi che vengono qua, qua è un inferno. Non li trattano neanche da esseri umani, è una cosa di cui si dovrebbero vergognare tutti. C'è un'altra cosa che mi chiedo, perché la gente si ostina a chiudere gli occhi? Perché credere che chi viene qua, chi attraversa il deserto, poi il mare rischiando di morire, possa essere un criminale che viene qua a delinquere? Perché lasciare la tua famiglia per buttare la tua vita? Perché è la stessa gente che ti fa credere queste cose? È la stessa gente che sfrutta queste persone ricattandole con la storia dei documenti. Cioè persone che stanno qua anni e non possono godere degli stessi diritti degli italiani, eppure pagano le tasse, eppure vengono pagati di meno, eppure vengono discriminati durante il lavoro. Perché? Perché si accetta tutto questo? Perché la gente chiude gli occhi? Non basta dire che non sono razzista. Non sei razzista, ma accetti un sistema del genere? In cui ancora i paesi africani vengono sfruttati? In cui ancora essere nero è segno di stigma? Si può accettare tutto questo? Io vengo dalla Sardegna, forse si capirà dall'accento. Venendo a Torino sono rimasto sorpreso, cioè ho avuto uno sciocco, perché ho detto Torino, vabbè, siamo in Europa, siamo nel continente. Insomma, avevo le mie aspettative. Eppure guardando per strada, sentendo queste storie di come la gente viene trattata in questura, dalle istituzioni, mi chiedo se effettivamente siamo ancora in Europa. Di cosa si deve vantare l'Italia a questo punto? È veramente il paese più bello del mondo o sono tutte stronzate?